Beati i puri di cuore perché essi vedranno il Dio. Matteo capitolo 5 verso 8. La purezza ancor più della purezza del cuore è la cosa più importante alla quale bisogna aspirare. Abbiamo bisogno di essere purificati interiormente per mezzo dello Spirito Santo e della parola di Dio e allora saremo anche puri nella condotta per mezzo della consacrazione e dell'ubbidienza. Vi è un'intima relazione tra gli affetti e l'intelletto. Se amiamo il male non possiamo comprendere ciò che è buono. Se il cuore è stolto l'occhio sarà offuscato. Come possono le persone vedere un Dio santo se amano le cose impure. Che grande privilegio poter vedere Dio qui ed ora. Un solo sguardo rivolto a Lui ed ecco che in qualche modo il cielo si avvicina alla terra. In Gesù Cristo i puri di cuore vedono il Padre. Vediamo Lui, la Sua verità, il Suo amore, il Suo piano, la Sua sovranità, la Sua fedeltà al patto stipulato. Sì, in Cristo Gesù vediamo il Padre. Tutto ciò è possibile sperimentarlo soltanto se ci studiamo di possedere un cuore puro. Solamente coloro che aspirano alla santità possono gridare i miei occhi, son del continuo verso l'Eterno. Salmo 15 verso 15. Il desiderio di Mosè, De fammi vedere la tua gloria, Esodo 33 verso 18, può realizzarsi nella nostra vita nella misura in cui ci purifichiamo da ogni iniquità. Noi allora lo vedremo come Egli è e chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come esso è puro. Prima Giovanni 3 versi 2 e 3. La realizzazione di tutta l'attuale comunione con Dio e la speranza della beata visione di quella futura rappresentano le priorità che debbono spingerci a ricercare la purezza del cuore e di ogni aspetto della nostra vita. Signore, fai di noi dei puri di cuore al fine di poterti contemplare in modo adeguato.